Benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei seminari del mercoledì. Oggi tocca a me introdurre, ma anche giustamente perché introduco l'altra curatrice dei seminari, Angela Maiello. Mi fa molto piacere, ci siamo scambiati il ruolo di presentatore reciprocamente. Angela, ricercatrice al Dispers dell'inizio della Calabria, ha un percorso di studi che l'ha fatta incrociare e continua a farlo incrociare le forme contemporanee dell'immagine, soprattutto in una prospettiva contemporanea legata ad alcuni ambiti. Uno di questi è sicuramente la serialità, a cui Angela ha dedicato diversi testi. Mi piace ricordare soprattutto l'ultimo, Mondi seriali, che è un testo che continua a riscuotere molto interesse, e far discutere perché la prospettiva da cui Angela poi analizza la questione della serialità è sicuramente una prospettiva molto originale. Credo anche, dal titolo dell'intervento di oggi, che l'intervento riprende queste tematiche, le sviluppa all'interno del percorso dei seminari di quest'anno, che appunto ruotano intorno all'infreccio tra immagini, vita, tecnica e potere. Per cui io lascio la parola ad Angela, chiedo a tutti quelli che sono collegati di mantenere i microfoni spenti per permettere di sentire al meglio, e niente, lascio a te la parola. Va bene, grazie Daniele. Sì, come tu hai anticipato, riprenderò qui alcuni temi che appunto ho esplorato nel libro, e devo dire in particolare proverò a soffermarmi sulle immagini, diciamo così, sulle immagini che si sono generate e che si continuano a generare, in realtà a partire da una serie che è The Handmaid's Tale, per provare a capire diciamo un po' che tipo di immagini sono le immagini che ruotano intorno alla serie, quindi che non sono soltanto, lo vedremo subito adesso perché partiremo commentando e guardando insieme delle immagini, non sono solo le immagini appunto di fiction, le immagini del racconto seriale, ma sono anche immagini che a partire dalla serie in qualche modo si sono generate e come dire, un po' l'obiettivo di questo, cioè l'idea un po' di ragionare insieme è sullo statuto sostanzialmente poi di queste immagini e sul ruolo che svolge la serie, quindi come formato, quindi la serie come formato ma anche questa specifica serie, perché secondo me da un certo punto di vista è esemplare, nell'ambito appunto della costruzione di questi racconti per immagini che popolano diciamo così la nostra vita mediale. Come appunto anticipavo vorrei partire subito commentando con voi alcune immagini che ho selezionato, una tra l'altro l'abbiamo utilizzata per la locandina di questo incontro, datemi un feedback perché io a questo punto vedo solo l'immagine, quindi ditemi se la vedete. Sì, la vediamo. Ok, perfetto. E appunto quando si è trattato di fare la locandina si è tratta appunto di scegliere un'immagine che un po' a partire dalla quale cominciare a ragionare su questi temi e io ho scelto questa. Che cos'è questa fotografia? È l'immagine di una protesta davanti Capitol Hill che è avvenuta nel 2017 quando il Senato americano si apprestava a varare una legge che prevedeva, proposta dall'amministrazione Trump, che prevedeva dei tagli consistenti diciamo rispetto a temi di salute pubblica e nello specifico fondi destinati alla salute delle donne e al diritto all'aborto. Nel 2017, questa foto è stata fatta a giugno, se non sbaglio, nel 2017 quindi un gruppo di attiviste scendono appunto in piazza vestite, qua cominciamo, come le protagoniste di questa serie che è appunto The Handmaid's Tale. Andata in onda qualche mese prima, diciamo che i due eventi sono più o meno coevi, nel senso che appunto la serie è andata in onda nella primaria del 2017 e qua siamo all'inizio dell'estate del 2017. E appunto, come vedremo tra un attimo, avrei potuto scegliere anche altre foto che tra un secondo vi mostrerò, però devo dire che guardando in rete e cercando la foto, tra l'altro parlo di questa cosa anche nel libro, ma non avevo scelto questa immagine e secondo me non è un caso, ne avevo scelto un'altra in cui anche si vedeva Capitol Hill, però questa oggi, e mi interessa anche sottolineare quest'oggi, oggi dopo altre immagini che abbiamo visto, mi è sembrata sicuramente forse l'immagine per certi versi più efficace per la Locandina, ma anche l'immagine con cui dare avvio a questo seminario. Che cos'è quindi The Handmaid's Tale? Magari molti di voi la conoscono, però per chi non la conosce appunto è una serie tv ed è l'adattamento seriale, diciamo così, di un romanzo della Atwood, romanzo uscito ora non ricordo precisamente quando, ma diversi anni fa, di cui appunto è stato fatto questo adattamento seriale per l'appunto nel 2017. Ed è una serie che ha per protagonista June, appunto, ed è la storia, diciamo così, di un mondo distopico, di... Ah, qua però io devo fare questa cosa, aiuto, aspettate, scusatemi, ma perché se no... Ok. Forse faccio così che è meglio, però non so se la vedete, non la vedete. Appunto, diciamo, la... la storia di The Handmaid's Tale è la storia degli Stati Uniti diventati, diciamo, in un post bellico, post bellico, diciamo, degli Stati Uniti post guerra, una guerra ovviamente di, come dire, di fantasia, che però ha portato all'instaurazione di una teocrazia, di una dittatura teocratica, in cui le donne sono, diciamo, sono ridotte, una forma di schiavitù, in cui l'unica, diciamo, funzione della donna è quella biologica, della riproduzione, perché solo alcune, solo una parte della popolazione femminile può ancora avere figli, in seguito a disastri ecologici, eccetera, per cui, appunto, diciamo, le donne, le donne con questi mantelli rossi, diciamo, sono appunto così individuate e hanno quest'unico scopo di, appunto, procreare, tanto è vero che, di volta in volta, vengono affidate ad una famiglia in cui, diciamo, la famiglia di questi generali che detengono il potere e, di volta in volta, prendono il nome del generale a cui, a cui vengono affidati. Quindi, June sarebbe di Fred, se non sbaglio, cioè, appunto, con questo retaggio, diciamo così, iper patriarcale. E la serie ha avuto un enorme, successo, teniamo conto che una serie è prodotta da una piattaforma, Hulu, quindi, non è una HBO, non è una grande produzione, però è una serie che ha avuto un enorme impatto, appunto, a livello di immaginario, a livello di costruzione di discorsi intorno alla serie stessa. Ripeto, nonostante il romanzo fosse uscito diversi anni prima, dopo magari vado a controllare precisamente quando, però, appunto, la serie è riuscita ad avere una grande eco, è riuscita a creare molto dibattito per motivi che tra un attimo poi vedremo perché vorrei con voi analizzare alcune caratteristiche di questa serie, qui vi sto facendo vedere delle immagini, anche qui che ho cercato di scegliere per metterle in una non forzata, ma secondo me naturale, e su questo naturale un po' dobbiamo ragionare, risonanza con le immagini che poi a partire da questa serie si sono prodotte, diciamo così, e che cominciamo ad introdurre dei termini un po' connotati, cioè che gli utenti attivisti della rete hanno cominciato a produrre e a condividere ovviamente online, tutte, però mi interessa qua sottolinearlo, tutte, come dire, immagini di proteste fisiche, cioè avvenute materialmente in luoghi, appunto, in luoghi simbolo come Capitol Hill, ma anche in luoghi più, come dire, con una valenza più specifica, locale, diciamo che le proteste rispetto alle politiche per le donne o contro le donne, in particolar modo in America o l'amministrazione Trump, ma anche in Europa, se pensiamo al caso della Polonia, hanno spesso negli ultimi anni preso a, come dire, modello, diciamo così, comunque hanno attinto e vedremo in che modo dall'immaginario che questa serie è riuscita a creare, a creare anche, e qua, a creare anche attraverso specifiche forme linguistiche e giochi linguistici che ripetutamente la serie ripropone e questo lo vedremo tra un attimo. Mi faceva, quindi, queste sono tutte immagini prese e sparse dalla rete, ora, insomma, per correttezza e per completezza di informazioni, in realtà, vi devo dire anche per ogni, tipo, questa mi sa che era in Ohio, questa forza era in Massachusetts, però non ricordo, ovviamente, ecco, c'era questa, come vedi, tutte immagini prese di proteste, dove temi, questo mi interessava, Hollywood and Mates, dove temi che sappiamo essere stati centrali del dibattito pubblico rispetto alla questione di genere e più in generale del ruolo della donna nella società americana che come sappiamo è stata anche, un tema molto legato alla specifica contingenza politica, temi diversi vengono ricondotti in questo grande immaginario che la serie è riuscita a produrre, qua ancora altre, appunto, questa è quella del, davanti al Parlamento europeo, aspettate, scusate un attimo, eccoci, e però avevo ancora mi sa, ecco, vi dicevo però che nella scelta delle immagini con cui, insomma, partire, avevo scelto quella specifica di cui si vedeva Capitolil, perché, diciamo, che la mia suggestione, diciamo, sostanzialmente di cui vorrei poi alla fine provare anche a parlare qui con voi è che in realtà queste immagini entrano in una particolare risonanza con altre immagini che all'inizio di quest'anno abbiamo visto e che sappiamo aver occupato una grande importanza, essere state anche qui molto commentate, molto, come dire, dibattute, ovviamente parlo delle proteste del giorno del 6 gennaio in cui appunto c'è stato il famoso attacco a Capitolil, Capitolil ovviamente è un simbolo, siamo d'accordo, però diciamo, mi interessa mettere un po' così di seguito queste immagini, concludendo con questa che tra l'altro era già ritornata anche nel seminario di Marcello Walter Bruno, appunto per creare, diciamo, sintonizzarci e verificarlo magari poi dopo nel dibattito e qui termino la presentazione delle immagini, ritorno, appunto mi interessava in qualche modo proporre una costellazione di immagini al centro delle proteste provando a mettere, diciamo, sostanzialmente avanzando fin da subito diciamo così l'idea che queste immagini abbiano qualcosa in comune, che queste immagini hanno, diciamo così, un medesimo terreno e soprattutto io credo che queste immagini abbiano tutte quelle che abbiamo visto, cioè quelle della serie, quelle della delle proteste, quelle quindi le foto delle proteste, della proteste delle donne e delle proteste pro Trump, ovviamente qui non sto facendo una questione di contenuti, ma ne faccio una questione proprio dello statuto mediale, diciamo così, di queste immagini, che io credo sia fortemente simile, cioè sono tutte immagini disponibili, immagini di cui ci si può appropriare, immagini che a loro volta richiamano mondi e narrazioni mediali e processi di appunto narrazione collegati a temi ovviamente diversi, direi che per usare un'espressione che ho trovato, insomma un'espressione di carattere, diciamo di sapore dell'eosiano che però propone Mauro Carbone nel suo testo ultimo su Il potere degli schermi, sono immagini diciamo così che partecipano tutte ad un medesimo regime di visibilità, cioè l'idea su cui vorrei lavorare insieme è che appunto diciamo l'accelerazione mediale, la proliferazione degli schermi, appunto il libro di Mauro Carbone è proprio sul potere degli schermi ma sappiamo che questo tema degli schermi è tornato già altre volte nel corso di questo seminario, lo schermo quindi non è soltanto un dispositivo hardware diciamo ma appunto lo schermo diventa in qualche modo istituisce quello che appunto Carbone definisce il regime di visibilità appunto di ciò che può essere visibile e di ciò che non è visibile e in qualche modo queste immagini condividono come dire lo stesso lavorano vengono utilizzate circolano all'interno dello stesso regime di visibilità e per questo motivo che è quello ovviamente qui non lo sto specificando però è quello dell'iper medialità connessa tramite la rete tramite i social network sappiamo che tutte queste immagini rimbalzano viaggiano lavorano attraverso appunto i social e quindi diciamo mi interessa in qualche modo e qua mi ricollego al tema no anche del titolo rifare il mondo tra seriale e reale in che modo la serialità contribuisce a questo regime della visibilità in cui noi ci troviamo e qual è il rapporto specifico quindi che diciamo qual è la funzione specifica diciamo così che alla serialità in base a delle proprie caratteristiche all'interno di questo come dire sistema mediale o regime di visibilità nel libro parlo di post-medialità ma ora al di là della specifica definizione diciamo quello che mi interessa è far risuonare e mettere in relazione queste immagini e capire quindi qual è il ruolo della serialità e più ancora nello specifico qual è il ruolo di questa serie perché secondo me o meglio in che modo questa serie rappresenta un po' un caso appunto come dicevo prima esemplare per cogliere questa funzione questo potenziale anche della serialità rispetto poi alla costruzione narrativa per immagini anche di grandi eventi sociali grandi movimenti o grandi affettività diciamo così anche in elaborate o che cercano una forma di elaborazione di fatto rispetto a determinati temi sentiti come importanti in un determinato momento storico per la società nella sua per la collettività nel suo insieme e quindi appunto The End Made Stay da questo punto di vista rappresenta sicuramente secondo me lo vedremo sia per caratteristiche intrinseche che hanno a che fare col formato seriale sia ovviamente anche per più aspetti legati al contenuto diciamo ai temi che affronta la serie rappresenta secondo me una utile chiave di accesso a questo rapporto della diciamo di produzione di immagini appunto tra seriale e reale quello che appunto allora proveremo a vedere insieme è quello che credo si possa definire una sorta di circolo che si viene a istituire appunto tra seriale e reale e che credo abbia essenzialmente tre momenti la prima è quella e lo vedremo ora appunto con The Handmaid's Tale la prima è quella della creazione del mondo le serie vabbè questa è un po' anche la tesi che ho provato a difendere diciamo così nel libro le serie riescono appunto a creare mondi la seconda è quella che più per certi versi forse mi interessa in realtà poi in fondo anche rispetto alla serialità è il processo di appropriazione che avviene da parte dell'utente su questi mondi cioè l'utente ora io lo chiamo utente come dire non a caso però diciamo lo spettatore utente o lo spettatore che protesta o l'utente che protesta comunque diciamo l'uomo 2.0 della contemporaneità si appropria e si può appropriare per specifiche condizioni mediali e per specifiche caratteristiche della serie come formato si può appropriare diciamo così di questi mondi e questo è il terzo momento che come dire secondo me è anche un po' più o quanto meno potrà apparire un po' più vago poi magari questo lo vedremo in una discussione però secondo me è altrettanto importante e anche qui si tengono insieme caratteristiche diciamo specificità del formato seriale specificità della medialità contemporanea a partire dall'approvazione però c'è un effetto di ritorno diciamo così sulla serie stessa quale narrazione sulla serie stessa quale prodotto narrativo insomma l'idea che mi sono fatta è che a partire proprio devo dire mi si è chiarita anche rispetto a quando ho scritto il libro mi si è chiarita meglio anche riguardando queste immagini e mettendo insieme queste immagini della presentazione di oggi che appunto ci sia questo circolo tra la creazione ripeto tra la creazione del mondo l'appropriazione dell'utente e il ritorno lo vedremo poi alla fine perché vorrei farvi vedere il trailer della quarta imminente stagione di The Handmaid's Tale questo effetto diciamo di ritorno sulla narrazione stessa implicito esplicito come dire voluto o non voluto però vedrete almeno questa è la sensazione che ha fatto a me che guardare quelle immagini oggi ovviamente questo capita scusate finisco la frase guardare quelle immagini oggi le immagini del trailer che vedremo in qualche modo ci fanno ritornare ovviamente le immagini che abbiamo visto come degli attacchi a capitoli questo capita naturalmente per qualsiasi cosa però la serialità secondo me ha delle specificità intrinseche al proprio formato che come dire la rende più recettiva diciamo così e lo vedremo perché all'apertura di questo circolo al mantenimento anche in azione di questo circolo appunto tra il seriale narrativo diciamo così e il reale mediale ecco per intenderci allora quindi vorrei provare a appunto vedere con voi questi momenti che io ho provato a definire quindi la creazione del mondo l'appropriazione da parte dell'utente infine la rimessa in circolo o effetto di ritorno diciamo così di questo di questo lavoro sulla sulla narrazione stessa proprio quindi a partire nello specifico utilizzando The Handmaid's Tale dicevo allora il primo punto è quello che la serie istituisce un mondo questo credo che su The Handmaid's Tale sia particolarmente efficace cioè con The Handmaid's Tale sia particolarmente come dire più semplice da capire per alcune ragioni innanzitutto perché appunto come vi dicevo ma questo era un tratto già specifico del romanzo di cui è l'adattamento The Handmaid's Tale si costruisce intorno ad un mondo distopico quindi ad un mondo chiuso per sua stessa natura una dittatura che quindi ha delle specifiche come dire regole di funzionamento che sostanzialmente per le prime due stagioni che sono poi le due stagioni di cui la serie esattamento perché dalla terza in poi in realtà si stacca dal libro perché come dire il libro finisce e poi anticipa un tema mentre la serie no appunto diciamo The Handmaid's Tale la costruzione di questo mondo e di come una serie può costruire un mondo ce lo fa vedere in maniera proprio quasi mi viene da pensare un po' anche quasi didascalica c'è la distopia c'è il mondo chiuso quindi c'è appunto un perimetro preciso a questo mondo che la serie istituisce ed è un mondo che lo spettatore insomma il compito principale dello spettatore è quello di conoscere questo mondo perché noi vabbè per chi ha visto la serie ma insomma provo a restituirlo noi veniamo catapultati noi spettatori diciamo veniamo catapultati in questo mondo in cui non si capisce bene cosa sta succedendo perché c'è una famiglia americana che a un certo che scappa da persone che la stanno inseguendo mentre intorno c'è il macello il devasto e appunto diciamo da quasi uno scenario quasi apocalittico e piano piano scopriremo che appunto che questa donna è stata separata dal marito che la figlia di questa donna è stata separata dal marito e che lei appunto è costretta a seguire determinate regole e piano piano nel corso molto lentamente anche questo è una cosa una specificità seriale che The Handmaid's Tale secondo me riesce a mostrare in maniera molto chiara molto lentamente lo spettatore è portato a piano 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 a comprendere a conoscere il funzionamento di questo mondo tanto è vero qui anticipo una cosa che forse il limite stesso seriale diciamo così a The Handmaid's Tale è proprio il fatto che sia un mondo così chiuso perché se lo scopo dello spettatore è quello di conoscere come dire sempre meglio e sempre più sempre più a fondo o scoprire nuove come dire nuovi nuovi aspetti di quel mondo che la serie istituisce se questo è lo scopo dello spettatore diciamo nel mondo chiuso della dittatura nel mondo chiuso di Gilead a un certo punto questa chiusura diciamo così del mondo stesso diventa un limite a quel processo diciamo di serializzazione ovvero di narrativizzazione che è motore di questa esplorazione del mondo questo in qualche modo è un limite tant'è vero che coincide poi con la precisa più o meno precisa sovrapposizione della serie al romanzo e dalla terza stagione in poi in realtà la serie in qualche modo deve cercare delle vie di fuga da questo mondo proprio per permettere al racconto stesso di andare avanti però c'è un altro aspetto molto importante secondo me che The Handmaid's Tale mette in evidenza rispetto al funzionamento seriale cioè ovvero rispetto a come le serie costruiscono mondi che è quello che potremmo definire una sorta di densità iconica o figurativa abbiamo visto tanto nelle immagini delle proteste quanto nelle fotogrammi della serie ci sono alcuni elementi che vanno a caratterizzare questo mondo che lo rendono fortemente riconoscibile fortemente individuabile uno di questi è ad esempio l'uso dei colori e l'uso dei costumi diciamo le donne tutte le donne in realtà a seconda della loro funzione hanno un colore un abito diverso all'interno nell'ambito della narrazione seriale nell'ambito del mondo di The Handmaid's Tale le donne che è fertile hanno questa tunica rossa le mogli che non possono avere bambini hanno questo colore quasi ceruleo e poi ci sono le donne ridotte diciamo le serve oppure ancora quelle proprio mandate nelle colonie quelle appunto che si definiscono le colonie che hanno ancora un altro colore questa divisione in colori dei personaggi femminili è sicuramente un elemento non a caso tra l'altro uno degli elementi di cui poi l'utente spettatore si è appropriato che caratterizza in modo molto marcato la serie stessa e l'altro elemento è quello appunto dei giochi linguistici nel mondo di Gilead ci si salutano in un certo modo presto si dice quando si entra in una stanza ci sono delle formule linguistiche legate anche all'ambito strettamente religioso che ritornano costantemente continuamente a rimarcare appunto l'appartenenza e l'adesione a quel mondo e questa è una cosa che in The End Mind's Tale lo si può vedere come dire con chiarezza è un meccanismo di serializzazione e di costruzione del mondo seriale molto limpido ma che in qualche modo è una costante per certi versi di tutte le grandi narrazioni seriali capaci diciamo così di creare mondi e quindi capaci anche qua veniamo al secondo punto capaci anche di sollecitare quel processo di appropriazione appunto da parte dell'utente spettatore questo è come dire il secondo momento di questo circolo che si viene a creare tra seriale e reale che ha appunto per protagonisti diciamo così l'attività mediale partecipativa dello spettatore da un lato infatti diciamo quello che appunto questi elementi come dire fortemente di densità figurativa appunto sono gli elementi su cui si esercita la capacità e la possibilità di appropriazione da parte dello spettatore cosa penso qui a delle modalità molto ludiche che avvengono ovviamente che avvengono ovviamente che avvengono innanzitutto nelle forme partecipative della rete appunto di prelievo appropriazione e riattivazione di determinati contenuti o appunto figure di quel mondo no questa è una cosa vabbè su cui io mi sono molto esercitata e che mi ha molto appassionato che appunto anche nell'ambito della serialità italiana l'abbiamo visto forse nella serie italiana più importante come Gomorra ma che in realtà funziona molto bene accade ecco più che funziona molto bene accade molto spesso con tutti i grandi racconti seriali accade con Game of è accaduto e accade diciamo nella funzione di Game of Thrones è accaduto e accade con Mad Men con Breaking Bad insomma tutti i grandi racconti seriali hanno poi prodotto una sorta di diciamo permettono ecco aprono uno spazio cominciamo anche qui a usare altri termini aprono uno spazio di riattivazione e appropriazione di quel mondo da parte dell'utente che vuol dire che questa appropriazione avviene innanzitutto nell'ambito appunto delle forme partecipative mediali io qua penso innanzitutto ai meme a tutte quelle forme di detournement ludico che avvengono e di cui tutti più o meno siamo artefici o utenti siamo spettatori perché circolano su qualsiasi chat e in qualsiasi diciamo forma di condivisione soprattutto poi magari in questo periodo diciamo quelle forme di appropriazione ludica che appunto ha luogo in rete che ha luogo diciamo che come dire avviene in quel regime di visibilità e qua mi interessa riproporre questo termine in quel regime di visibilità instaurato diciamo così dai dispositivi e dalle prassi dalle prassi mediali appunto legate alla rete legate ai social network legate alle forme della medialità contemporanea diciamo che quindi è come se le immagini della serie in qualche modo entrassero diciamo partecipassero a questo appunto regime di visibilità ne fossero protagonisti insieme a tante altre e insieme e come accade per altre immagini no? pensate a quello che è successo a Bernie Sanders diciamo all'immagine di Sanders all'inaugurazione della insomma della presidenza Biden e quello che è successo a quell'immagine diventando appunto virale e di cui è stato fatto oggetto di riappropriazione in ogni luogo in ogni forma del web diciamo quella modalità di appropriazione diciamo quella modalità di partecipazione che è possibile nell'ambito di questo diciamo nel regime di visibilità in cui noi viviamo accade anche per le immagini della serie anzi e qua c'è uno specifico sia in virtù come dire di quella densità figurativa dei mondi seriali sia in virtù di una caratteristica e su quest'ora mi soffermo perché in realtà c'è anche l'introduzione al terzo punto diciamo le serie per diversi motivi le serie sembrano essere come dire naturalmente predisposte a diventare oggetto di appropriazione e di partecipazione da parte degli utenti in rete e poi abbiamo visto però e qua come dire il termine ambiente mediale lo dobbiamo davvero intendere come dire in un senso più ampio che non sia quello semplicemente della virtualità tra virgolette del dispositivo non soltanto quindi nelle forme come abbiamo visto con di Handmade Stale ludiche come dire ludico-digitali dell'appropriazione del meme ma anche in una forma di se vogliamo se pensiamo al caso di Handmade Stale di vera e propria rimessa in scena per certi versi del racconto e di quel mondo quindi diciamo le serie a partire dalla creazione del mondo narrativo a partire dall'istituzione di questo mondo che viene alimentato nel processo se stesso di serializzazione e quindi di narrativizzazione del racconto le serie restituiscono mondi e questi mondi sono disponibili diciamo così a diventare oggetto di partecipazione di appropriazione da parte dell'utente nel informe anche molto diverse sia da un punto di vista proprio di capacità di affettività che queste forme generano sia anche appunto quasi mi verrebbe da dire se la norma diciamo così è quella o quantomeno la forma di appropriazione più diffusa è quella del detournement ludico diciamo così però ad esempio nel caso di The Handmaid's Tale in realtà è come se l'intensità anche patetica affettiva della serie venisse in qualche modo diciamo diventasse oggetto di appropriazione da parte dell'utente le tuniche rosse delle donne costrette diciamo così viste unicamente per i fini diciamo ai fini biologici quella intensità emotiva che chi ha visto la serie sa è davvero molto forte rispetto al racconto rispetto alla capacità del racconto di come dire creare un mondo anche emotivo della serie in realtà viene diciamo è quella intensità emotiva che viene fatta oggetto di appropriazione da parte dell'utente utente manifestante diciamo così per come dire anche caricare quelle immagini che si generano quelle immagini che appunto vengono generate a partire dalle proteste di una solennità di una gravità diciamo che probabilmente quelle immagini forse non avrebbero avuto se quelle donne non fossero state vestite in quel modo cioè come se nelle immagini delle proteste delle donne in America vestite come le protagoniste di The Handmaid's Tale in realtà risuonasse quell'intonazione emotiva diciamo così del racconto seriale di cui appunto diciamo le immagini prodotte in qualche modo possono godere di cui possono che vanno ad arricchire e a proprio in qualche modo anche risignificare quelle immagini stesse a partire dal racconto però vi dicevo come dire c'è il terzo aspetto che mi interessa mettere in evidenza cioè appunto dicevo le serie sono disponibili sembrano essere naturalmente predisposte a questo lavoro di appropriazione non soltanto per la capacità dicevo prima di creare mondi ma anche per un'altra come dire caratteristica intrinseca proprio al formato cioè che è quello della diciamo della come dire del rendersi disponibile all'appropriazione nel momento stesso in cui come dire il racconto si dispiega questa come dire è la grande differenza secondo me che può che in termini anche di pratiche ricettive e capacità di pratiche ricettive e anche diciamo di fruzione è la grande differenza che c'è tra l'esperienza del film chiuso e l'esperienza della serie aperta poi vabbè sui film anche ovviamente ci sono le saghe e ci sono le grandi narrazioni come dire appuntate anche in quel caso dei grandi film però diciamo che e ora appunto mi viene in mente WandaVision di cui è capitato di parlare però appunto come dire la specificità del racconto seriale è che nel momento in cui il racconto si dispiega nel momento in cui il racconto si sta costruendo avviene subito avviene contemporaneamente l'incontro con lo spettatore che può quindi diventare subito forma di appropriazione del racconto quando Ricker parla diciamo delle tre mimesis e no la terza lo dice ovviamente il momento per certi terzi più importante è il momento in cui il racconto nella sua conclusione nel suo essere chiuso va a riconfigurare il mondo stesso del lettore a partire ovviamente da un finale e a partire quindi da quel finale che il mondo del lettore il mondo del racconto si incontrano si incontrano e poi ovviamente diciamo questo incontro non è chiuso nel senso non è univoco però il punto è che c'è un momento di chiusura di conclusione di arrivo che è per l'appunto il finale che nelle serie in realtà non c'è o quantomeno ovviamente c'è però è ininfluente o comunque non svolge quel ruolo di riconnettore diciamo così di tutta l'esperienza di lettura o dell'esperienza di visione di quello che è un formato chiuso e che quindi è a partire da quell'esperienza chiusa che il lettore o lo spettatore può far agire diciamo così o può anche appropriarsi del racconto del film o del libro nel caso della serie o di un romanzo nel caso della serie invece questo incontro appropriativo diciamo così tra il lettore tra lo spettatore lo spettatore utente e il racconto avviene nel momento stesso in cui il racconto si sta costruendo e questo appunto questo da un lato quindi secondo me faccio un passamento sul momento 2 è all'origine di quella anche predisposizione del racconto a essere in qualche modo appropriato o abitato dallo spettatore utente ma dall'altro e questo è il terzo momento che mi interessa cioè quello degli effetti di ritorno per certi versi sulla narrazione questo crea anche una permeabilità diciamo così del racconto stesso a non dico ad adattarsi però a tenere dentro di sé nelle sue evoluzioni ovviamente quelle che sono poi le forme appropriative e riappropriative di riattivazione del racconto stesso che il lettore che lo spettatore lo spettatore fa cioè questa attività di cooperazione questa attività di appropriazione ecco che non è semplicemente un'attività di cooperazione interpretativa da parte dello spettatore ma di riattivazione di altri racconti sono altre immagini che si sono prodotte a partire dalle proteste a partire dalle donne appunto vestite come le protagoniste di Dianne Metz sono altri racconti che però necessariamente vanno ad agire diciamo così sulla narrazione stessa in una modalità secondo me più forte e più come dire anche aperta di quanto non possa avvenire semplicemente nel guardare come dire un un diciamo un film o un leggere un libro alla luce di qualcosa che è già avvenuto c'è un rapporto di c'è un rapporto di stretta vicinanza e reciprocità che si viene a creare tra queste forme appropriative dello spettatore utente e l'evoluzione della narrazione stessa se non altro perché comunque appunto e qua ci ricolleghiamo a quello che dicevano prima queste immagini godono dello stesso regime di visibilità ovvero godono delle stesse o quantomeno vivono nello stesso ambiente mediale di cui diciamo in cui tanto l'immagine della serie quanto l'immagine prodotta dall'utente quanto l'immagine del nuovo trailer di The Handmaid's Tale può essere appunto diventare oggetto di appropriazione e elemento di costruzione di quel racconto mediale della contemporaneità in cui confluiscono appunto immagini apparentemente anche molto diverse allora prima di concludere vorrei appunto farvi vedere perché a me allora così parentesi da spettatrice di The Handmaid's Tale le ho colto soprattutto forse a un certo punto i limiti in questo processo di serializzazione dovuti alla incapacità diciamo così del mondo di aprirsi eppure è una serie che nonostante ciò ho continuato a vedere probabilmente forse anche per questo stretto legame che poi si è venuto a creare rispetto ad alcuni temi diciamo così di dibattiti o di discorso pubblico e vedendo questo trailer o diciamo qualche giorno fa perché tra l'altro ce l'ho da poco la serie uscirà ad aprile in qualche modo di nuovo mi ha rimesso come dire mi ha fatto risuonare altre immagini che avevo visto e che in qualche modo a prescindere ovviamente da eventuali volontà creative però risuonano necessariamente nel racconto stesso quindi come ha fatto Daniele l'altra volta vi passerei il link del trailer qui in chat così ah vedi Felice aveva scritto l'era dell'85 ecco il libro di Margaret Atwood e infatti mi ricordavo che era di molti anni prima quindi vi passerei il link del trailer della quarta stagione quindi se siete d'accordo l'altra volta ha funzionato benissimo ora potrebbe funzionare un po' meno bene perché potreste avere le promozioni diciamo come dire gli spot all'inizio però vi proporrei di vederlo insieme ognuno sul proprio schermo e poi ci ritroviamo per insomma due battute finali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti io ho finito ma non so voi ok ha funzionato anche questa volta il trailer mi ha colpito molto innanzitutto a partire ecco questo è veramente molto significativo dal finale però il trailer è forse uno dei formati chiusi per eccellenza dal finale questo finale sono June Osborne sono una cittadina degli Stati Uniti d'America ed è come dire in qualche modo richiamare questo tema della cittadinanza richiamare questo tema della resistenza siamo un esercito siamo armati ma anche come dire nell'inquietudine di ripensare a quell'immagine invece di chi un esercito pro-trampiano che è sceso in piazza e ha occupato il Campidoglio invaso il Campidoglio in qualche modo come dire il credo che naturalmente per i temi di cui parla di The Handmaid's Tale però quello che in qualche modo volevo provare a diciamo o quantomeno su cui volevo provare a ragionare insieme a voi è che in realtà è anche per una questione tanto di formato seriale quanto appunto di regime di visibilità che queste immagini condividono che in qualche modo diciamo le serie diventano possono diventare quantomeno davvero una chiave di lettura diciamo così del reale del reale inteso appunto come questo anche qui ci dovremmo intendere perché poi potremmo avere anche molti problemi su questa definizione di reale cioè di reale inteso proprio come appunto il luogo di sedimentazione e di e di circolazione di queste immagini immagini che appunto possono essere anche molto diverse da loro e possono avere anche appunto una come dire natura mediale per certi versi diversa pensiamo all'ipermediazione dell'immagine di una serie appunto che ha una regia ha una fotografia ha uno studio no delle diciamo è precisamente ricostruita però di come appunto questa immagine poi va a confluire in una appunto in un in un contesto mediale in cui le immagini si confondono e si richiamano tra di loro e la serie secondo me in qualche modo mostra una specifica apertura diciamo la serie come formato mostra una specifica apertura a diventare appunto come dicevo prima chiave di di analisi di lettura di reinterpretazione anche del presente quindi intrattiene secondo me per le caratteristiche intrinseche che in qualche modo ho cercato di mostrarvi paradossalmente contrariamente anche controintuitivamente perché non c'è nulla di più immersivo e come dire per certi versi alienante della visione delle serie tv però può intrattenere un rapporto molto profondo con appunto il reale e direi di fermarmi qui grazie Angela grazie 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 per il tuo intervento che già in realtà in maniera molto precisa ed efficace ha individuato un tema che credo che sia un tema su cui vale la pena discutere a lungo perché questa idea che poi è una proposta di lettura che fa della serialità come dire un dispositivo di appropriabilità specifico rispetto ad altre forme dell'immaginario collettivo è qualcosa che indubbiamente colpisce allora a partire da questo ruolo di presentatore mediatore come sempre parto con la prima questione ed è una prima questione proprio su questo aspetto su quello che poi il tuo discorso ruota il terzo punto su cui il tuo discorso ruota che è quello della potenza di questa appropriazione cioè se questo ti permette di individuare una differenza di potenziale di effettività diciamo di questa forma di appropriazione e ti faccio un esempio cioè se secondo te per esempio possono esserci delle comparazioni dei paragoni possibili o delle differenze rilevanti tra quello che è successo negli anni primi anni 2000 a partire dall'appropriazione di Anonymous della maschera di Guy Fawkes presente cioè disegnata da Louise Mettyg e dalle sorelle Wachowski nella versione cinematografica di For Vendetta che poi viene dalla miniserie a fumetti scritta da Lamour dello stesso anno dei racconti di Lancella tra l'altro il racconto di Lancella tra l'altro il 1985 è interessante questo cortocircuito e lì abbiamo sostanzialmente un film perché è chiaro che per quanto famoso la miniserie a fumetti non ha avuto quell'impatto così come per quanto importante è famoso il romanzo di Atwood non ha avuto l'impatto paragonabile né la modalità di diffusione indubbiamente quella maschera e il suo uso politico sono stati potentissimi negli anni 2000 quindi rispetto al discorso sulla differenza di modalità con cui l'appropriazione si svolge tu hai sviluppato un discorso in cui in un certo senso proprio la dinamica seriale che accompagna lo spettatore lo spettatore che accompagna la dinamica seriale fa sì che l'aderenza tra le due forme sia molto più forte rispetto al come dire one shot della visione di un film però nei termini di una efficacia di una potenza in qualche modo di penetrazione all'immaginario collettivo mi chiedo se si possa parlare oggi come oggi di una differenza oppure no è giusto appunto uno spunto di discussione sì cioè se capisco bene tu dici c'è una differenza cioè in questa forma di appropriazione c'è una differenza di potenza diciamo così correlabile a formato tu dici tra il film ad esempio la serialità no io credo di no cioè nel senso o quanto meno non lo so è una cosa su cui così ragiono ora ad alta voce insieme insieme a te ma cioè diciamo quella cultura dell'appropriazione che quella cultura dell'appropriazione diciamo così sollecitata e qua potremmo citare Mano e ci potremmo insomma ragionare su come dire in che modo la cultura digitale ha alimentato la cultura dell'appropriazione o del remix insomma tutta questa quest'ordine di prassi potenzialmente diciamo si può esercitare in realtà su cioè non credo che ci sia una differenza sulla capacità di esercizio o la possibilità di esercizio in termini di potenza dell'azione appropriativa da parte dell'utente quello che però in qualche modo diciamo ho cercato di dire forse in questo ci può essere una differenza che diciamo la continuatività del racconto l'apertura intrinseca del racconto seriale in realtà favorisce questa appropriazione tant'è vero che perché comunque manca l'elemento appunto diciamo il finale l'elemento terminativo da cui rianalizzare tutto che orienta lo spettatore orienta il lettore diciamo è come se quell'apertura di quel mondo in qualche modo in quel modo favorisca questo processo di appropriazione la cui però diciamo come dire efficacia non dipende necessariamente secondo me dal formato seriale credo però è un tema che forse veramente merita di essere approfondito dubbiamente allora come sempre ci si prenota la discussione per alzata di mano c'è prima una domanda di Pietro Montani Pietro se ci sei ecco e poi dai il microfono è spento Pietro il microfono perché no credo che abbia capito ma non ah che non riesce ad attivarlo forse vediamo se riesco ad attivarlo io ma non credo in realtà il microfono dovresti autorizzare eccolo che normalmente è l'ospite che autorizza dunque allora sì no la mia è una una curiosità anzi se è un tema già diffusissimo su cui magari sono già stati scritti dei libri chiedo scusa perché non ne sono informato però Angela nella sua bella relazione ha toccato hai toccato in modo totalmente incidentale per questo mi chiedo se sia una cosa già ampiamente trattata dagli studi sulla serialità la questione dei giochi di parole che a me sembra di importanza straordinaria tra l'altro per una pura coincidenza nelle prime immagini che tu ci hai mostrato me ne sono accorto da solo non perché io sia particolarmente però mi interessa il linguaggio per esempio una di quelle signore che stava a Capitol Hill aveva in mano un cartello in cui c'era scritto Homemade che gioca pure con Homemade cioè fatto in casa oltre a l'ancella della casa ma gioca pure con una serie celeberrima insomma con forse la prima serie del Covid che si chiamava Homemade dove Sorrentino mette in scena i pupazzetti della regina d'Inghilterra che parla con Papa Francesco eccetera adesso indipendentemente dal fatto che tutto questo è molto divertente e che a me personalmente sollecita molto sono due cose che vorrei chiederti una se questo tema è già stato battuto allora va bene mi piacerebbe che mi dessi qualche esempio tu ne hai parlato in modo molto incidentale invece secondo me credo che sia una cosa che merita e la seconda cosa è che forse non sono solo regimi regimi visivi visuali o come diavolo li chiamate ma anche regimi di linguisticità oltre che di visibilità e inoltre creare un mondo è innanzitutto creare un linguaggio creare un mondo e creare un linguaggio sono due cose poco mentre si è visto molte volte prima della nascita delle serie dal Feuilleton in poi pensate solo alla storia di Pinot che un personaggio abbia creato mondo è assai forse può dare perfino un un fenomeno specifico lavorare sul linguaggio per cui lo schermo non è soltanto qualcosa che ha a fare con regimi di visibilità ma è uno schermo uno schermo display che ha a che fare anche con regimi di linguisticità questa è la mia questione sì allora ti dico la verità io non lo so se ci sono nel senso un po' ovviamente ho letto sulla serialità poi magari vedo anche amici esperti come Massimo magari lui ne sa qualcosa più di me però non ho trovato specifiche analisi delle serie dal punto di vista appunto dei giochi linguistici che si tuiscono però questa è sicuramente una costante della grande serialità ora io ho questa difficoltà che magari non riesce appunto anche lì è qualcosa che ti ricordi ma magari non riesci non praticandolo diciamo il gioco linguistico perché non sono fresca divisione della serie non me lo ricordo però ad esempio su un'altra serie come può essere Game of Thrones lì diciamo l'idea del gioco linguistico torna sempre not today che è una delle frasi cardine diciamo così della serie però scusami posso intervenire posso intervenire non solo i giochi linguistici cioè quel tipo di circolazione a cui tu sei particolarmente attenta e su cui hai scritto i tuoi libri in particolare l'ultimo può essere una circolazione che passa anche attraverso mediazioni strettamente linguistiche oltre a mediazioni di carattere immaginario ma anche strettamente mi chiedevo se questo non fosse un fenomeno significativo quindi non solo con i giochi è più facile così come i meme sono giocati sul terreno dell'ironia della parodia eccetera però si tratta di capire se c'è questa come componente uso una parola che piace a me intermediale nel nel tipo di effetto di circolazione di feedback di feedback di circolarità tra il finzionale e il reale quindi non solo i giochi insomma no no su questo io penso che sicuramente sia un'altra come dire strada diciamo così rispetto alle pratiche ricettive che poi abbiamo detto sono ricettive appropriative che si generano a partire dalla serialità sicuramente che meriterebbero approfondimenti e sono senz'altro d'accordo con te che il regime di visibilità è anche un regime di visibilità cioè nel senso non intendevo ridurre isolare la questione alla appunto diciamo l'intermedialità in questo senso era parte integrante del discorso che che facevo però cioè ti dico la questione questa questa l'importanza diciamo così linguistica in questo anche del linguaggio nella in queste pratiche di appropriazione passa sicuramente attraverso appunto questi giochi linguistici che le serie fanno e che che poi diventano più facili da afferrare anche perché diventano comunità cioè da cosa riconosci la comunità dal diciamo dall'avere in comune quel quel gioco quindi questo funziona su quelle serie funziona molto molto bene anche nel processo appunto di diciamo così fidelizzazione o collettivizzazione dell'esperienza della visione allora c'è adesso prenotato Massimiliano Coviello chiamato in causa anche prima quindi buonasera grazie Angela per per le riflessioni sulla questione di una bibliografia sulla costruzione di mondi dal punto di vista del linguaggio non ne sono certo però probabilmente ci dovrebbero essere delle riflessioni in questo senso in un testo pubblicato dall'Amsterdam University Press che è curato da Marta Boni se non sbaglio che è sul proprio si chiama World Building il titolo per preciso non lo ricordo però il curatore Boni e penso ci siano però anche lì non in maniera strutturata e approfonditissima riflessioni sul diciamo sulla sulla capacità di creare linguaggio e di farlo dialogare dal punto di vista intermediale tra finzionale e reale come diceva Pietro Montani però appunto credo siano solo appunto delle riflessioni non ben strutturate no Angela il discorso a me ha portato altrove e ti voglio stuzzicare soprattutto su una questione cioè tu hai giustamente ripreso un po' Ricer io vorrei giocare di più sulla fase 1 tu hai puntato tutto sulla fase 3 invece voglio puntare tutto sulla fase 1 cioè sulla qualità del mondo costruito perché la domanda te la metto così provocatoria perché per esempio una serie come appunto che forse dovremmo su cui dovremmo forse lavorare come Watchmen non ha fatto una fase 3 così potente eppure lì c'è una riscrittura incredibile di un classico del fumetto internazionale che è stato completamente riletto da da Lindelof che addirittura lo ha calato nell'America razziale e però Watchmen arriva su HBO ma non riesce più o meno siamo su il periodo Black Lives Matter è quello le botte e gli pestaggi però non riesce io un'idea ce l'ho e cioè che il mondo 1 la fase 1 messa in gioco da da Watchmen la serie presenta una complessità di livelli temporali una stratificazione iconografica una una grana molto più spessa molto più complessa rispetto al lavoro di traduzione trasposizione e reintermediazione che è stato fatto invece sul romanzo dell'Hatwood lì effettivamente Lindelof mette in gioco il passato razziale dell'America mette in gioco gran parte di tutto quello che insomma oggi c'è attorno al tema della science fiction e lo fa ovviamente a modo suo in un canone postmoderno e quant'altro però la densità del mondo di Watchmen è forse a una grana più spessa e quindi c'è una difficoltà maggiore nei processi di appropriazione così diffusi così collettivi che invece si sono visti dentro dentro Hans Man's Tale e un'altra cosa quindi che ne pensi di questa della questione di quanto deve essere insomma sulla complessità della fase 1 e un'altra cosa è questa io penso che come tu giustamente dici nel libro Edmund's Tale gioca molto a ribasso perché si apre e si chiude e quando e si riapre perché a un certo punto è chiaro che i produttori e la Ulu cioè il canale che distribuisce la serie che finanzia la serie ha visto l'enorme successo però ho guardato il trailer ora e tu l'hai detto qua mi sembra che tu l'abbia detto ho visto il trailer della quarta stagione il trailer è un finale quando lei dice sono una cittadina americana lo dice perché permettiamoci di dire come stanno le cose perché riesce finalmente ad uscire dal mondo dittatoriale e ottenere penso a questo punto finalmente forse lo doveva ottenere già nella prima stagione e qui il discorso di un mondo che non si fa fatica a chiudersi perché sostanzialmente ci sono spinte esterne che lo fanno chiudere questa donna finalmente dopo tante peripezie molte delle quali forse inutili è riuscita ad approdare in Canada che è uno stato democratico e non dittatoriale ti ringrazio Massi per le domande appunto su Watchmen io e Massi noi abbiamo in programma di scrivere appena fai di scrivere un articolo insieme ne vogliamo scrivere un altro ed l'oggetto dovrebbe essere proprio Watchmen però io penso che lì Massi il problema in realtà sia una cosa che tu hai detto cioè Watchmen è costruita narrativamente in maniera molto complessa in cui quel gioco sui tempi che viene introiettato dentro la narrazione stessa rende molto difficile la visione rende difficile il processo di serializzazione cioè Watchmen fa fatica a differenza di The Handmaid's Tale cioè fa fatica proprio nel dispiegamento narrativo a tenere dentro lo spettatore anche per quella complessità di strati che tu che tu dici ed è verissimo che forse all'inizio e questa è anche un po' una caratteristica cioè qual è la differenza un po' che Watchmen ci mette dentro tutto da subito The Handmaid's Tale invece ci mette un'intera stagione a capire come funziona quel mondo mentre invece è come se il mondo in Watchmen fosse anche già dato e di fatto tu ci stai dentro in questa di rivieni temporale che lo rende molto più complesso però sono d'accordo con te e questo secondo me hai colto un punto molto importante che però in qualche modo tra i piatti mi sento da ragione al mio ragionamento perché non è una questione di temi non è una questione del contenuto della serie perché volendo Watchmen poteva essere come giustamente tu dicevi ma proprio di come il formato interagisce e di come l'interazione interagisce su diciamo di come l'interazione interagisce a partire dalla densità del mondo che però non basta ecco e questo secondo me quello che diciamo come dire portiamo avanti e portiamo a casa a partire dalla tua domanda c'è che quella densità che sicuramente c'è in The Handmaid's Tale diluita nell'ambito almeno della prima stagione in cui tu capisci tutto non basta perché in realtà comunque la narrazione svolge quel ruolo di appunto collante poi alla fine tra gli spettatori e sul fatto che effettivamente anche a me infatti infatti l'ho detto parto dalla fine del trailer posto che il trailer ti deve sempre ma effettivamente anch'io ho pensato quella cosa che forse anche l'ultima stagione forse è anche necessaria a questo punto di quel racconto ma perché quella serie lì cioè se lei non esce se lei esce finisce ma se non esce la serie muore perché il mondo ormai l'abbiamo capito qual è quindi su questo è vero c'è la questione del finale lì cioè su DNA e Stelle è centrale e il trailer sembra in qualche modo accennarlo quantomeno poi allora c'è ora Stefano Oliva sì grazie Angela molto interessante pieno di spunti io ti volevo chiedere una cosa e mi ha colpito questa idea di appunto di appropriabilità e pensavo che per certi versi addirittura potrebbe essere il vero criterio del successo di una serie e mi chiedo quanto effettivamente chi produce una serie metta in conto questo elemento in particolare mi viene un altro esempio di un'altra serie che è La Casa di Carta che un po' riprende anche l'idea della maschera di VVV per vendetta cioè recentemente la maschera della Casa di Carta è stata ripresa la maschera di Italia è stata ripresa in manifestazioni politiche però in realtà all'interno della serie è un po' tematizzata questa appropriazione perché le persone che in qualche modo scendono in piazza per sostenere diciamo questi ladri che stanno facendo questo colpo alla banca centrale manifestano con la stessa maschera adottata dai ladri quindi è come se ci fosse una prefigurazione di questa appropriazione allora mi chiedo effettivamente diciamo una serie TV può essere una serie può essere considerata di successo nella misura in cui si presta questa appropriazione e addirittura per certi versi la suggerisce in questa maniera anche così esplicita tematizzando l'appropriabilità grazie grazie Stefano per la domanda che trovo assolutamente utile interessante io sono assolutamente d'accordo con te cioè secondo me è una serie di successo quando sollecita di successo cioè una serie che riesce ad attivare poi di fatto un discorso pubblico quando sollecita questa appropriabilità tanto è vero e questo diciamo che noi appassionati di serie poi alla fine ce lo dobbiamo dire e ce lo dobbiamo confessare che le serie degli ultimi tempi le produzioni Netflix insomma le serie come dire delle piattaforme o comunque diciamo della sovrapproduzione non so se per covid ma anche in realtà già prima spesso non riescono in questo diciamo in questa in questa a sollecitare questa appropriazione qualcuno potrebbe anche dire come dire i puristi dei discorsi sulla tv cioè degli studi sulla tv potrebbe dire che è anche una questione di fruizione per cui in realtà quando io cioè questo mi do la zappa si vedete sola però quando sostengo che sostanzialmente le serie non le dobbiamo intendere all'interno del modello televisione ma più all'interno appunto di quest'ambito mediale più ampio in realtà qualcuno potrebbe dire guarda vada bene che le serie di cui tu parli di cui appunto che sollecitano questo processo di appropriazione sono le serie che ancora godono della fruizione per palinzesto per appuntamento per programmazione non le serie cotte e mangiate in una notte o in due notti su Netflix e questo in realtà potrebbe essere anche un altro argomento che apre appunto alla questione più produttive e distributive però io credo sostanzialmente eccezione a questa cosa che ho appena detto è sicuramente la casa di carta la casa di carta ha torto ragione per quanto una serie che ad esempio non aveva particolarmente però è una serie che è riuscita in questo assolutamente ma è tanto vero che da un punto di vista di marketing l'hanno sfruttato le proiezioni a piazza affare a Milano insomma sicuramente quella appropriazione e ti devo dire la verità questa cosa che è verissima a cui io non avevo pensato in realtà cioè il fatto che quell'appropriazione sia suggerita all'interno della serie stessa è sicuramente predisposta dal racconto ad esempio attraverso i giochi linguistici suggerita non so però è come se tu ora mi avessi se fosse aperto il link che in realtà il successo di quella serie è dovuto a quello ma non al fatto che la suggerisce quanto al fatto che si mette esattamente in connessione con quella modalità di fruizione di partecipazione mediale ma lo fa cioè non perché lo suggerisce ma perché in qualche modo lo introietta e forse questo è anche uno degli elementi al di là ovviamente anche lì del contenuto del tema si è parlato della casa di carta populista eccetera eccetera ok tutto vero però secondo me e tanto è vero che una delle scene forse più belle è anche quella in cui ora non la so bene collocare nella stagione però in cui c'è la piazza piena e lo schermo del professore che parla alla sua gente cioè sicuramente la serie ha introiettato un regime di disibilità o di visibilità comunque regime di medialità in cui noi siamo dentro e questo forse più di tutti in realtà ora pensarci appunto ragionando insieme può essere l'elemento anche della grande popolarità poi di quella serie per certi versi molto mediocre diciamo così Roberto De Gaetano allora sì una piccola questione rispetto all'intervento fatto da Angela e le osservazioni che poi ne sono seguite che in qualche modo in un certo senso sia dalle maschere di cui parlava Daniele sia come dire dall'estendibilità del discorso di Angela al linguaggio quindi alla dimensione linguistica sia alla questione dell'appropriazione di cui parlava Stefano Oliva mi pare che la questione centrale sia quella del segno ora dai vestiti rossi di Andermatt's Tale ai vestiti rossi indossati da chi protesta nelle piazze americane c'è un passaggio nel valore del segno del vestito rosso da una dimensione immaginaria ad una dimensione simbolica che se tipica o perlomeno diciamo la dimensione simbolica iscritta già nell'immaginario dei costumi rossi delle ancelle in qualche modo viene fortemente simbolizzata da chi lo usa protestando nelle strade ed è uno dei tratti dell'ideologia saturare il simbolico con l'immaginario quindi c'è una marcata traslitterazione della funzione del segno abito rosso ora io mi chiedo ed è questa come sa Angela l'obiezione che io continuo a fare al discorso seriale se in gioco il segno quindi è tutto vero che il problema è quello dell'appropriazione di questo segno ed è vero che questi segni possono essere fortemente segni linguistici ed è vero che il discorso ideologico è quello che porta dalla saturazione fra la dimensione immaginaria del segno l'abito rosso delle ancelle e il suo valore simbolico protesto davanti a Capitol Hill quando questa saturazione questa saldatura diventa più caotica come lo sciamano di Capitol Hill dove l'immaginario è molto mescolato ne abbiamo fatto una lettura su Fata Morgana Web allora lì in qualche modo la dimensione ideologica diventa confusa più pasticciata più mescolata ma è quella la posta in gioco sa come saldare dimensione immaginare dimensione simbolica allora se le serie operano sostanzialmente ed è vero che fanno questo in questa direzione io vedo come dire una dimensione molto riduttiva nella nozione di reale che ci restituiscono perché il reale è aperto da segni che sono invece più sfuggenti più ambivalenti meno saturabili in senso immaginario simbolico e dunque come dire un certo tipo di cinema certo ci sono serie che fanno eccezione la serie di David Lynch non è certo diciamo leggibile come saturazione immaginario simbolica quindi in termini ideologici allora io penso che come dire rispetto a questo tipo di operazione in qualche modo la serie rischia sempre di riconsegnarci un'immagine del reale al fondo prevedibile al fondo consolatoria al fondo rassicurante perché che quei segni non toccano mai un reale e il segno tocca il reale se così vogliamo parlare anche in termini psicoanalitici quando non consente questo tipo di saturazione quando non consente la costruzione della maschera quando non consente il travaso da un immaginario al simbolico come nelle nelle piazze in qualche modo americane dunque che le serie abbia una centralità decisiva per questa ragione che tu ben hai messo a fuoco oggi ma soprattutto e anche nel tuo libro però il loro limite secondo me è strutturale ed è esattamente questo cioè la capacità che il reale che ci riconsegnano in un certo modo è un reale che tende a confermare in qualche modo lo spettatore nei suoi occhi comuni nel suo diciamo sapere implicito e orientandolo spesso verso dimensioni di tipo ideologico come in un certo senso l'uso delle maschere di vu per vendetta o questi abiti rossi di chi protesta nelle strade americane secondo me testimonia c'è un altro reale che non è in qualche modo che eccede che scarta questo tipo di saturazione che le serie certo c'è qualche eccezione no alla produzione seriale però le serie di successo quasi mai riescono a toccarlo secondo me il microfono è spento Angela no stavo dicendo che questa domanda di Roberto vedo che ha sollecitato molte alzate di mano quindi evidentemente è un tema cruciale no io vabbè nel senso ho capito cioè tradurrei diciamo la domanda l'osservazione di Roberto dicendo appunto l'impoverimento del reale a partire da un mondo codificato che si presta facilmente diciamo così a diventare appunto ideologia o comunque diciamo ad essere appunto appropriato in questa forma che in qualche modo credo donore assumendo la tua domanda impoverisca il reale nel momento in cui diventa simbolo che capisco benissimo cosa vuoi dire capisco cioè sicuramente da questo punto di vista come dire la cioè l'appropriazione quel processo appropriativo certo non può esercitarsi secondo me in questa forma in questa forma anche collettiva che la rete mette a disposizione diciamo così non può esercitarsi sul reale che sfugge cioè non so come dire oppure su un segno che poi non diventa simbolo credo però è su questo che diciamo che a partire quindi da un mondo così fortemente codificato e le serie ce l'hanno no pensiamo tu dici infatti tu spesso dici no molte serie sono ambientate nel passato perché appunto hanno bisogno di coordinate di immaginario molto precise tutto vero capita capita poi vabbè alcune magari sono nel futuro ma il processo di fatto lo stesso però io credo che è in realtà è nel processo di narrativizzazione che questa complessità del reale in qualche modo viene secondo me recuperata è nella interazione tra questi personaggi spesso con tonalità molto diverse che come dire una qualche complessità a quel mondo viene restituita al di là del simbolo perché se no altrimenti sarebbe un po' come io penso che la fruizione delle serie io credo che tu la faccia è più rassicurante di quella che al fondo poi non è però questo resta come dire un tema su cui dibattere certamente vediamo se le domande di dopo vogliono portarci ancora in questa direzione la suspense ci porta allora alla domanda di Giacomo Tagliani buonasera a tutte a tutti grazie grazie ad Angela di questo excursus molto interessante io in realtà probabilmente devo fare un piccolo passo indietro perché volevo ripartire dalla domanda di Stefano Oliva un po' più forte dall'osservazione di Stefano Oliva unendo anche una questione del segno che ha detto Roberto allora io mi trovo assolutamente d'accordo su questa idea di appropriabilità e che una appropriabilità in un certo senso è già iscritta all'interno di alcune serie che non ho visto la casa di carta insomma però mi sembra molto interessante questa idea che già questa appropriabilità viene testualizzata dalla serie stessa e gli esempi anche il riferimento a quello che ha detto Massimiliano su Watchmen per esempio appunto mi sembra che questa appropriabilità avvenga soprattutto quando c'è un elemento cioè un segno forte che possa essere poi ricondotto nel caso di Handmaid's Tale hai già più volte citato tu insomma un vestiario e quindi qualcosa di molto particolare nel caso di la casa di carta o di V per vendetta c'è una maschera ad esempio quindi ci sono dei segni che possono tranquillamente essere presi e portati al di fuori e ridefinire un'idea di riconoscibilità penso da questo punto di vista che una serie come Homeland su cui voi sapete io sono particolarmente legato eccetera eccetera appunto non ha avuto assolutamente nessuna forma di appropriabilità in questo modo ma anche perché non aveva niente di nessun segno di questo tipo nonostante sia una serie che si sia protratta per dieci anni per otto stagioni e che fosse decisamente sul contemporaneo quindi in effetti questa idea di trovare una forma di appropriazione o di appropriabilità che sia direttamente scritta come elemento di solito figurativo direi cioè come un segno figurativo che poi possa essere trasportato fuori mi sembra molto interessante a partire da qui io volevo pensare a una cosa innanzitutto cioè che la capacità di adattabilità della serie stessa mi sembra decisiva nel formato del formato seriale e del formato seriale soprattutto se si espande su più stagioni tu la mi sembra molto con grande interesse l'hai ricondotta a un gioco che va oltre la cooperazione io sai che la intendo in una forma anche più larga o meno specifica insomma che quello di della serie che si adatta alla realtà che muta e lo faccio proprio a partire da Omel magari qualche esempio e allora provo a farti questa domanda su cui forse già ci siamo confrontati ma non so se se non è che il panorama seriale odierno sta cambiando e cambia anche queste possibili forme di appropriabilità tu hai già menzionato un'idea di fruizione quindi che le nuove serie forse non danno più adito a queste forme ma forse proprio il panorama seriale che non è più interessato o non riesce più a produrre perché questa appropriabilità mi sembra che si si verifichi soprattutto quando le stagioni si protraggono cioè quando l'universo seriale riesce ad avere una certa densità e occupare un certo spazio nel tempo ecco ora che invece mi sembra che i formati seriali si siano ridotte che le miniserie siano un formato che è decisamente maggioritario rispetto invece a una serie più lunga e articolata lungo più stagioni ti chiedevo se secondo te c'è davvero questo passaggio in atto nelle forme seriali e quindi di un panorama seriale che sta cambiando e se questo panorama seriale si cambia in questo modo definisce nuove forme di appropriabilità e che cosa ne pensi sì questo è un tema su cui in realtà forse siamo confrontati via mail ma mai così a voce sì è un tema molto interessante che un po' forse io mi sono appostinato delle serie proprio per questa loro tendenza all'essere oggetto di appropriazione così questo viene vero un po' mi rattrista però in realtà è così è così per i motivi che dici tu perché è vero che oggi le miniserie o comunque le serie più brevi sono più sono più ricorrenti no pensiamo anche la serie forse la serie di cui più si è più parlato ultimamente che era la oddio come era in italiano la regina degli scacchi mi pare che fosse così in italiano no che però appunto era una serie breve in cui oggi in realtà ci pensavo secondo me c'è anche il gesto oggi mi sono fatto questo trip pensando perché ero partita proprio da una considerazione di questa che tu hai appena fatto anche in quella serie dove però ad esempio lì il gesto dello scacco il giocare il gesto degli scacchi del giocare a scacchi è stato in qualche modo oggetto di poi quasi di culto degli appassionati tanto è vero che nei discorsi successivi al rilascio della serie si parlava del fatto che c'era stata un'esplosione della vendita degli scacchi e del fatto che la gente avesse riscoperto il gioco degli scacchi anche lì ce l'ho attribuito al gesto reiterato anche lì come si fa come il gioco linguistico che ritorna nella serie il gesto di giocare a scacchi reiterato in qualche modo è diventato poi anche lì simbolo comunque oggetto di approfessione però sono d'accordo che in generale potremmo stare assistendo ma in realtà da un punto di vista anche proprio produttivo è anche così ad un cambiamento e sinceramente cosa accadrà da questo punto cioè che modalità di partecipazione apre che modalità di partecipazione aprono questa apre questa nuova stagione della serialità è tutto effettivamente da da verificare però ecco in questo senso di Unmade Stale in realtà può anche è vero che è del 2017 quindi non pochi anni fa però già era in qualche modo è una delle ultime serie che è riuscita delle ultime serie più recenti che è riuscita a creare questo 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 gioco di appropriazione e tra l'altro mi viene in mente che un'altra serie che in realtà avrebbe dovuto sostituire dal punto di vista anche di palinzesto Game of Thrones che è Westworld ora qua mi ricollego alla domanda prima di Massimiliano anche in quel caso nonostante ci potessero essere alcuni elementi come dire di cui appropriarsi però anche in quel caso forse anche lì per il gioco sul tempo la serie non è stata capace poi di creare questo immaginare questo gioco di appropriazione quindi questo io credo che sia un tema molto forte che non necessariamente coinciderà con cioè bisogna capire anche cosa emergerà da questa serialità ridotta o mini serialità diciamo che sicuramente in questo momento è molto diffusa e anche per ragioni meramente produttive funzionali diciamo al mercato in questo momento quindi sì sicuramente lì bisogna capire che forme di partecipazione e appropriazione queste generano allora Felice Cimatti e allora aspettando sul volume e Angela grazie per questo anche mi sembra molto interessante il dibattito che sta uscendo che tutto sommato se ripenso anche all'intervento di Daniele la settimana scorsa e anche altri che abbiamo avuto un po' stiamo girando intorno la stessa questione sembra che l'abbia molto ben posta poco fa Roberto De Gaetano e la ripongo così nella natura stessa di qualche cosa che è appropriabile si esclude l'aspetto traumatico del reale appropriabile vuol dire appunto che l'ho appropriato il reale invece è per definizione ciò che è inappropriabile Roberto giocava un po' con l'archipanalisi qui può essere utile la distinzione lacaniana fra realtà e reale la realtà è il modo con cui ci appropriamo il reale ma il reale sfugge per definizione alla tradizione allora lo stesso formato seriale in qualche modo sono d'accordo se ho capito fino in fondo la domanda di Roberto esclude il rapporto del reale e il fatto stesso che sia appropriabile che costruisca un mondo che una serie costruisca un mondo ne è la prova se tu calchi dentro quel mondo per definizione tu sei in quel mondo e quel mondo lì è quel mondo di quella serie all'interno di quella serie mentre invece l'aspetto forse potrebbe essere ora non so se io non conosco assolutamente le serie quanto le conoscete voi però la domanda che ti ha appena fatto raggiacomi sembrava andare in questa direzione perché uno cerca mini serie a questo punto ammesso che sia una tendenza che non sia soltanto un ramo commerciale ma perché la mini serie va più nella direzione invece di avere qualche cosa che incide che taglia in qualche senso la mini serie impedisce la costituzione della serie della durata del mondo e a quel punto rimane dolente non riesci fino in fondo a parlare sarebbe un po' come immagina un poeta che immagina la differenza che c'è fra un poeta che fa un poema lunghissimo oppure un poeta che con un verso quasi si inventa una lingua e non vuole essere appropriato vuole rimanere traumatico e questa cosa la ritrovo in molti degli interventi di questo seminario mi sembra molto interessante se uno pensa in fondo stiamo facendo questo seminario a distanza noi stessi siamo diventati una serie non ci vediamo mai siamo tutti così separati è come se cercassimo all'interno della riflessione teorica dei modi per ma in che modo buchiamo questa serialità ma in che modo buchiamo questo stato così anche di separatezza in cui ci troviamo e allora da questo punto di vista quello che tu ci hai proposto lo so veramente tra l'altro per quanto per me che non mi so nulla hai dato un po' anche le coordinate per capirlo ma mi hai posto anche la domanda in che senso tutto questo a un certo punto esce perché domanda ti faceva a Stefano se addirittura la serie chiama la sua appropriazione io pensavo all'esempio di Capitol Hill e infatti mi hai fatto capire perché in fondo non so se le immagini di Capitol Hill c'era già un po' stavano rimettendo in scena qualche cosa che avevano già visto era già rivivevano serialmente qualche cosa che avevano già visto in qualche serie televisiva poi non so magari forse è più tragica di quanto la vedo io però lì appunto il tizio stesso con le corna come fai a prendere sul serio quel tizio con tutta la drammaticità di quel tizio e però ti dice che forse una mentalità costituita a partire dalla serialità alla fine è incapace poi di fare cose che ti bucano ora non è una domanda anche a noi anche Angela era più una riflessione rispetto a quello che hanno detto gli altri e soprattutto Roberto però non è un po' questa questione si pone che tipo di rapporto si stabilisce con il reale ora usiamo questa distinzione non con la realtà con il reale grazie ancora no grazie io penso che forse c'è un modo per declinare questa cosa è che sicuramente si stabilisce un rapporto con il racconto del reale nel senso in qualche modo quando io dicevo queste immagini hanno la stessa la stessa come dire statuto mediale delle altre intendevo esattamente questo cioè che tra le immagini di Capitolito le immagini delle proteste le immagini del generale che da dietro con la piazza piena appunto di Ancelle tra quelle immagini come dire vi è una continuità mediale diciamo questa era la mia questo ovviamente ci porta quindi ad un'ulteriore questione sicuramente tra il rapporto tra il reale e il racconto del reale se vogliamo però è anche vero che nella nella come dire nella nella prospettiva no di una diciamo di una di intendere il mediale come anche come dire non so non voglio dire sovrapponibile al reale qui si aprirebbero come dire varchi filosofici enormi però come dire in qualche modo mi interessava ecco diciamo così mettiamo la più semplice constatare questa vicinanza mediale piuttosto che la lontananza diciamo tra narrazione ecco mettiamola così e o quantomeno e realtà ecco diciamo che mi interessava enfatizzare questa vicinanza mediale tra le immagini che poi in realtà c'entra anche col discorso che hai fatto tu su rispetto a Capitol Hill e alle immagini della protesta al rovescio diciamo quindi allora direi concludere il dibattito con l'ultima questione che è quella di Bruno Roberti allora mi sentite? sì mi sentite? e allora io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Roberto e con la ripresa del discorso felice rispetto alla differenza con quello che ha detto Roberto rispetto al tasso di ambiguità che un'immagine nel rapporto tra immaginario e simbolico debba in qualche modo conservare per non cadere appunto non nel buco del reale dove c'è appunto l'allucinatorio in qualche modo quindi l'immagine continua ad avere un tasso allucinatorio o un tasso diciamo di ambiguità molto forte quanto con appunto appropriabilità che è un'appropriabilità che per forza di cose si investe la realtà non il reale è chiaro che la tua impostazione che è un'impostazione tra l'altro di un'analisi dei meccanismi e dei codici con cui funziona la serialità è un'impostazione non solo diciamo interessante che può anche diventare può anche poi avere degli sviluppi magari tassonomici la questione che io pongo sempre di che cos'è la serialità d'autore di che cosa c'è del mondo di Oderberg in The Knick per non parlare del mondo di Lynch nella serie estrema rispetto alla terminologia lacaneana di cui si riferiva prima che è appunto il Twin Peaks ultimo trend oppure di Soderbergh oppure di Shyamalan mi pare che esca adesso questa serie di Servant eccetera ma la cosa che mi sembra importante e qui vorrei diciamo sollecitar e se ti sei chiesto se l'ha accennata anche un po' Massimiliano se c'è evidentemente un modo di praticare la serialità forse un primo momento in cui i tempi diciamolo tra virgolette in cui ci si risce alla decostruzione della sceneggiatura e al mescolamento dei tempi e quindi a un lavoro sul montaggio degli spazi e invece una serialità che ha più a che fare con quello che poi aveva a che fare alle origini con il cinema cioè con l'idea di Feuilleton cioè con l'idea di costruire dei mondi dentro cui muoversi perché è abitare e ti mettono in qualche modo a tuo agio e sollecitano a tuo agio nel senso di aspettative di codici narrativi e ti sollecitano a percorrere in qualche modo però diciamo quello che è interessante è la ricaduta di tutto ciò nel tuo interessante in questo senso nella realtà cioè poi il simbolico si appropria di questi mondi immaginari mettendoli in atto nella cosiddetta realtà perché ormai la realtà è diventata una una iper realtà inondata e inflazionata dagli stessi quello che una volta era una tecnodistopia è diventata una tecnodistopia e quindi è come se si fosse sovrapposto per dirla con Borghe è come se il territorio si fosse i brandelli di territorio emergono proprio brandelli rispetto alla mappa dell'area che ormai piene e quindi la cosa che ti voglio chiedere è questa cioè è possibile una via secondo te è possibile una via o riflettere e poi lo staremo a vedere anche rispetto alle serie che usciranno eccetera ma è possibile una via di riflessione diciamo un contraltare per cui ci si 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 predisporne appropriabilità sono appunto inappropriabili destrutturano il soggetto e stimolano un modo di guardarle di fruire critico cioè stimolano lo spettatore critico ormai è quindi la postulazione di un altro tipo di un altro tipo di poetica della serie o di un altro reale rispetto al costruire la serie è chiaro che la questione del reale come invisibile o inappropriabile come buco nero in cui precipitare guarda caso si è non so se voglio dire lo ha praticato Lynch ma certe vertigini sono ancora rintracciabili in serie come True Detective o in serie nelle serie che avevano a che fare con con questa postulazione di mondi paralleli dal punto di vista dello spazio e del tempo non tanto di costruzione quindi è possibile in qualche modo distruggere i mondi attraverso la serie invece che costruirli provocatoriamente distruggerli attraverso una un intervento che non è necessario estremamente da autore voglio dire gli autori magari film non i primi due episodi ma però impostano un mondo che è un mondo che progressivamente invece di andare costruendo può andarsi invece distrutturandosi questa devo dire è una prospettiva alternativa a cui sinceramente dovrei pensare nel senso della cioè soprattutto quest'ultima cosa che hai detto della destrutturazione invece della costruzione diciamo che secondo me nel meccanismo della serialità d'anni 2000 quella che va sotto il nome di serialità complessa il meccanismo è sempre quello della reciprocitrata tra narrazione e creazione del mondo e quindi questi due processi vanno appunto vivono un rapporto di reciprocità per cui la narrazione è funzionale alla creazione del mondo e senza la creazione del mondo la narrazione non può andare avanti c'è questo circolo però effettivamente potrebbe quasi essere un po' teoria alternativa comunque uno sguardo alternativo sulla serialità devo dire questa è una cosa a cui io non avevo pensato ma che ora un po' mi stuzzica l'idea appunto della decostruzione del mondo invece della costruzione potrebbe essere magari un tema sicuramente da ripensare attraverso cui ripensare la serialità quindi ti ringrazio per questo spunto davvero perché non ci avevo pensato quindi grazie va bene penso che dopo questo che poi sarà interessante proprio questo rovesciamento finale no perché il discorso di Bruno è effettivamente un discorso che in qualche modo è come se scavasse da dentro il ritardo con cui arriva il mio audio si esco perché beh è la destrutturazione della conferenza non so da dove lo apro ma comunque va bene io direi ancora una volta grazie Angela grazie a tutti per la partecipazione per le questioni che sono emerse perché il dibattito è stato veramente denso da questo punto lo si dice sempre però in questo caso denso anche nel senso come è stato notato che ha sollevato una serie di questioni che probabilmente sono sentite in misura diverse da prospettive diverse ma in modo comune da molti di noi quindi grazie ancora Angela grazie a tutti grazie a tutti a mercoledì prossimo a mercoledì